TELESPETTATRICI, TELESPETTATORI DI ROSEA TELESPETTATRICI, TELESPETTATORI DI ROSEA La dottoressa è psicoanalista, quindi opera qui anche fra le altre sedi dove svolge il suo lavoro qui a Fisionati Medical Center e magari tentiamo di capire anche perché. Perché effettivamente noi siamo tesi a pensare che questo sia un centro che è soprattutto specializzato in riabilitazione e fisioterapia, ma ci possono essere delle fortissime assonanze fra quello che dice il nostro corpo e quello che il nostro corpo ci vuole trasmettere. Salve, sì, in effetti pensavo di trattare insieme oggi la questione della fibromialgia e della stanchezza cronica, che sono delle patologie che sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva del corpo e che spesso magari in questo studio vengono accolte e trattate, e che invece ci forniscono l'occasione di vedere come, come hai detto giustamente tu proprio adesso, ci sia un forte aggancio fra la psiche e il soma. Cioè come una malattia apparentemente di pertinenza esclusiva del corpo che si presenta con tutta una serie di sintomi di dolori, di stanchezza, di debolezza, di disturbi del sonno, spesso associati a depressione, come dire, voglia invece può, possa veicolare, dunque voglia veicolare un altro tipo di discorso, cioè come il discorso d'organo possa trasformarsi, possa prendere parola, e dunque diventare un altro tipo di discorso, cioè il discorso del soggetto. Soggetto che il più delle volte è femminile. Allora sì, la fibromialgia sta, come dire, prendendo una deriva quasi epidemica. Leggevo una serie di dati mentre preparavo questo incontro, ne soffrono a livello mondiale circa il 4% delle donne e poco più dell'1% degli uomini. In Italia arriviamo al 5%, la percentuale dunque si alza ulteriormente. È un disturbo prevalentemente femminile. Diciamo che la maggior parte dei disturbi che si presentano, scegliendo elettivamente la via del corpo, sono disturbi, diciamo, di pertinenza femminile. Il che, quando dico femminile, non intendo le donne, tu curr. Cioè, c'è del femminile anche in un uomo, certamente il sintomo che prende la via del corpo tendenzialmente in una struttura anevrotica, soprattutto, è affine al femminile. Che, come dire, riprende un po' la questione di quella che Freud chiamava il corpo teatro dell'isterica. Cioè, il corpo si fa teatro, cioè si fa luogo di un discorso, di un messaggio rivolto all'altro. Quindi questo collegamento fra soma e psiche, soma intendiamo corpo e psiche, mente, è un qualcosa che va interpretato e va capito, va compreso da tutti, dall'operatore che qui dentro lavora sul corpo, ma anche dal professionista che tenta di capire magari perché quel corpo manifesta quei disturbi. Sì, e come fa a capirlo? Perché se un soggetto si presenta con tutta una serie di dolori che ha, diciamo, portato da una serie di professionisti, i quali, come dire, non ci hanno capito molto, perché di fatto la fibromialgia è una sindrome, diciamo, che fa, rimanda quella frustrazione al soggetto che viene un po' pensato come una sorta di malato immaginario. È detta anche la sindrome, diciamo, la malattia dei mille sintomi, no? Perché si presenta con tutta una variegata forma di manifestazioni e sembrerebbe mettere un po' in scacco la scienza medica perché non si capisce bene quale sia l'origine di questo disturbo che può prendere anche la via, diciamo, intestinale, della pelle, eccetera, eccetera. Dunque il soggetto, in fondo, non si sente riconosciuto nel disturbo che ha e poter parlare ad uno specialista di quello che accade e incontrare nell'analista un ascolto ha una funzione di riconoscimento. Il riconoscimento non è tanto dell'altro, non è tanto l'analista, ma è, diciamo, il discorso che il soggetto porta e nel quale si reperisce ascoltandosi. Per cui, in questo caso, diciamo, di un soggetto che porta un corpo che è un corpo triste, un corpo stanco, un corpo appesantito... Infatti sono collegate anche sindrome vere e proprie, sindrome di stanchezza cronica, sono collegate proprio delle sintomatologie comunque ben precise. Sì, sono sempre un po' a cavallo nella stanchezza cronica, soprattutto fra l'attacco di panico e la depressione. Cioè, quello che ci interessa vedere qui è come il corpo sia in primo piano. Arrivano soggetti che presentano vertigini, forti mal di testa nella stanchezza cronica, mal di pancia, dolori muscolari, fiato corto, palpitazioni, l'intorpidimento degli arti, no? Che sono, come dire, tutta una serie di sintomi che angosciano profondamente un soggetto. Perché il corpo la fa da padrone. È una sorta di corpo che va un po' per conto suo, impazzisce. E quando il corpo è in primo piano il soggetto si angoscia. Freud diceva che quando un soggetto ha il mal di denti è il mal di denti. Allora, noi dare voce al soggetto significa in qualche modo smarcare questa coincidenza fra il corpo e il soggetto. Ma quindi potrebbe essere collegato proprio anche a una paura inconscia di perdere il controllo del proprio corpo? Ma diciamo che molti soggetti, specialmente quelli che arrivano dopo un disturbo d'attacco di panico, ansia, o anche i sintomi di cui, diciamo, le patologie di cui ho appena accennato, portano un po' questa questione del controllo. Cioè sono tendenzialmente soggetti che tendono ad avere una sorta di calendarizzazione della loro vita e ad un certo punto, e non si capisce mai perché, cioè, come a dire, il discorso è un po' questo. Andava tutto bene nel caso dell'attacco di panico e all'improvviso mi sono sentito come se stessi per morire. Oppure, nel caso della fibromialgia o della stanchezza cronica, il soggetto racconta molto bene, in maniera anche estremamente dettagliata, tutti i sintomi che ha nel corpo, ma questi sintomi vanno un po' per conto loro. Cioè il corpo parla tutto solo. È un corpo, Lacan diceva, un corpo che si gode in maniera autistica. Quando parliamo di godimento in psicanalisi non parliamo di un aspetto, diciamo, felice. Parliamo più di qualche cosa che è dell'ordine di una sofferenza irrinunciabile. Allora, la prima cosa che fa un analista è cercare di agganciare il sintomo, cioè la sofferenza che si porta, alla storia del soggetto. Dunque, che periodo era della sua vita quello in cui si è manifestato per la prima volta questo disturbo? Che è un modo di storicizzare e dunque agganciare quello che sembrerebbe un sintomo che non vuole dire nulla alla storia del soggetto perché quel sintomo voglia dire qualche cosa, perché attraverso il corpo il soggetto parla, solo che è un discorso muto, è un discorso d'organo. E questo discorso va invece fatto lavorare, va agganciato alla storia del soggetto. In pratica qui c'è davvero la presa di coscienza di quanto sia fondamentale andare alla causa dei problemi e non fermarsi al sintomo. Ok, c'è un disturbo, ma la prima domanda che tutti noi ci dovremmo porre è perché? Allora, non è la prima domanda in realtà, questa è un po' la differenza fra le psicoterapie e la psicoanalisi, no? E anche fra la scienza medica, il medico e l'analista. E infatti Michele Occhieli è specializzata in psicoterapia, che è una cosa estremamente importante perché è molto importante capire la differenza dei termini. Allora, te la banalizzo un po' così, no? Io vado da un medico perché ho dolore a un ginocchio e che cosa domando? Che mi tolga il dolore, dunque che mi curi, no? Che tolga il sintomo. La stessa cosa accade un po' quando ci si rivolge allo psicologo, allo psicoterapeuta, no? Inizialmente si entra con una domanda di cura, mi accade questo, non so che cosa sia, me lo tolga in mezzo, cioè mi faccia stare meglio. Il perché, che è un punto molto interessante che tu sollevi, è quello che segna un po' il passaggio dalla domanda di cura, se c'è, a una domanda di analisi. Cioè quando un soggetto non si limita a dire sto male, vorrei stare meglio e mi dia la soluzione, ma come dire, si domanda come mai mi accade questo? Allora il perché, il come mai, è una domanda non più di cura, ma di sapere, di volerne sapere di ciò che mi accade e che mi accade proprio perché non ne so nulla. Questa è una definizione che Freud e anche Lacan davano dell'inconscio, no? È un sapere che non si sa di sapere, ma quel sapere ne sa e insiste per essere ascoltato. E quando non lo si ascolta si manifesta attraverso i sintomi. Esatto, ma conoscere l'origine di un disturbo, di un dolore, di un qualcosa che comunque non ci fa stare bene, sicuramente ci permette anche magari di affrontare meglio questa situazione di disagio, o no? Allora sì, direi di sì, se no che ci state a fare voi. Però Lacan diceva che la cura è un effetto in sovrappiù, cioè la cura è intesa come guarigione, cioè si guarisce perché si ricorda. Quindi è l'effetto della parola che ha come effetto in sovrappiù il fatto che i sintomi poi se ne vanno. Si ricorda, si aggancia il proprio malessere alla propria storia, la si mette in parola, c'è un punto in cui si vede chiaramente ciò di cui si tratta. Mi accade questo perché, ripeto questo perché, e a partire da lì il soggetto incontra una possibilità nuova. Ma la possibilità nuova la incontra in quel che dice e in quel che emerge nell'analisi. Diversamente da quello che Freud pensava, l'inconscio, cioè ciò da cui siamo causati, a nostra insaputa, no? La sorta di ospite inatteso, potremmo dire, l'altra scena, come la chiamava. Non è un sito archeologico che va dissotterrato, ma è qualcosa che emerge nel qui ed ora della cura. Ed è sempre qualche cosa che supera il soggetto. Se tu lasci parlare, l'analista che fa, si mette in ascolto, non ci dica. Quando tu lasci parlare qualcuno, quello che sistematicamente osservi, se sei nella posizione di chi ascolta bene, è che si dice sempre di più di quel che si pensava di dire. Allora, quel di più che sia un lapsus, che sia qualcosa che non volevo dire, l'ho detto per sbaglio, non c'entra nulla. Allora, lì c'è la verità del soggetto, che di solito è rimossa, controllata, come dicevo prima, dicevamo prima, perché, insomma, della pasta di cui siamo fatti non ne vogliamo sapere troppo, in realtà. Quindi mi fa venire in mente una cosa, Michela. Tante volte capita che magari delle persone, fra virgolette, litighino fra di loro. Magari si alzano i toni, si entra in discorsi che non si sarebbero mai pensati di affrontare, e si dice, scusami, scusami, ho detto cose che non penso, ma è vero o non è vero? Oppure quelle cose si pensano. Non vorrei destabilizzare gli ascoltatori. Diciamo che quel che si dice, proprio quando ci si corregge, ho detto ciò che non pensavo, è esattamente quel che si voleva dire. Io faccio sempre l'esempio del lapsus, non so, per una serie di ragioni evidentemente. E si chiama lapsus freudiano, no? Anche molto spesso. Sì, diciamo, il lapsus è ciò che un soggetto dice di non voler dire, ma quel non voler dire è esattamente quel che si sarebbe voluto dire, ma che si censura, perché per una serie di ragioni non lo si può dire evidentemente, no? È come se un soggetto parla del proprio matrimonio, si sta preparando, sta facendo i preparativi per il matrimonio, a un certo punto dice manicomio. Volevo dire matrimonio. Quel che voleva dire l'inconscio è esattamente manicomio, cioè che per quel soggetto il matrimonio è un manicomio, o tale lo si immagina. Quando, ecco, su questo si ferma il soggetto come dire, no, no, cioè ha detto proprio questo. E da lì poi vengono fuori tutta una serie di cose interessanti. Interessantissime, proprio il bello della professione scelta da Michele, l'occhio è proprio questo, quello di voler comunque relazionarsi all'altro, comprenderlo e credo anche comprendersi. Allora, anche qui spattiamo un piccolo mito, no? Intanto cerchiamo di capire quello che, come un eme, nel senso comune ha a che fare con l'empatia. Cioè vado dallo psicologo che mi capisce, lei sì che mi capisce. Ecco, allora, l'analista non capisce. Anzi, Lacan diceva, più ha capito e meno ha ascoltato. Che vuol dire questo? E se tu mi racconti la tua storia, ad esempio mi stai dicendo che ti stai separando, o magari che mi sto innamorando, meglio. O che ti... Sì? Se parlando mi viene meglio perché adesso te lo spiego. Ok, ok. E io ti dico, ad esempio, ah, e come stai attraversando questo periodo difficile della tua vita? Vuol dire che io ho capito. Anche perché tendenzialmente, mi sa che chi si innamora ci va poco dallo psicologo, vero? Non è detta. O dallo psicoterapico. Non è detta. Non è detta, esatto. Non è detta. No, scusa, ripeto. Allora, se io dico come stai passando questo momento difficile della tua vita, vuol dire che ho capito che siccome ti stai separando stai soffrendo. Dunque non ho ascoltato. Ascoltare vuol dire lasciarti dire di più. Perché magari per te la separazione non è un momento difficile. Anzi, può essere, che ne so, un sollievo, una liberazione. Può essere altro. Può essere quello che tu sai e io non so. Se io capisco, non ascolto. Ascoltare significa rilanciare, cioè farti dire di più. Perché quel che tu stai dicendo non solo io non lo comprendo, ma non so cos'è. Tu lo devi dire bene. Se vai in analisi a lungo, perché andare in analisi è dire bene, dice Lacan. Dire sempre di più. Dire qualche cosa di cui l'altro non sa, non può sapere. L'analista è più qualcuno che mette la punteggiatura nel tuo discorso. Mette le virgole, i punti, il punto di domanda, il punto esclamativo. Rilanciando a te il senso. La comprensione è più dell'ordine immaginario, delle psicologie, delle psicoterapie, di un altro modo di lavorare a pari dignità. È semplicemente differente. L'analista fa un'altra cosa. Ok, per fare questo comunque fa un lungo percorso di studi, un lungo percorso che nasce anche proprio dalla volontà e dalla passione di volerlo intraprendere, Michela. Sì, deve essere anche faticoso. Un lunghissimo percorso che non finisce mai, perché ci si continua a formare, a studiare. Poi io faccio anche la docente nella scuola in cui mi sono specializzata. Io amo studiare, per cui evidentemente ho annodato queste due passioni. La passione per lo studio al desiderio dell'analista, come lo chiamiamo noi. Il desiderio dell'analista è qualcosa che però si incontra alla fine di un'analisi, analisi conclusa, analisi personale intendo, e che poi risignifica a posteriori tutto il percorso. E non ha neanche a che fare col desiderio di fare l'analista. Non ha neanche a che fare col desiderio di ascoltare, di curare. Non è niente di tutto questo. Lacan diceva un desiderio più forte. Che cos'è un desiderio più forte? Il desiderio di far emergere il desiderio inconscio che si annida nelle trame significanti del soggetto, cioè fra le tue parole, di cui l'analista non sa, ma sa come farlo emergere, come produrlo. Allora, nel caso delle patologie di cui abbiamo parlato all'inizio, ad esempio, che sono molto affini alla depressione, fare recuperare quel soggetto, riattivare qualche cosa della vitalità del desiderio, va esattamente in quella direzione di svegliare il soggetto da questa stanchezza che lo addormenta. Quando Lacan parlava della depressione, ne parlava nei termini di un cedimento sul proprio desiderio, che è un antidoto fondamentale, perché il desiderio ha sempre un aspetto creativo, vitale, produttivo, di sveglia. Ecco, nel mio caso evidentemente si è trattato di un incontro che mi ha svegliata. Dunque, sono stati, potrei dirti, nella mia vita più incontri con la psicoanalisi, con dei maestri fondamentali, recalcati per primo, ma poi questo incontro è stato alla fine della mia analisi, cioè col desiderio dell'analista, che è un desiderio molto, il più forte di tutti, è un desiderio deciso, che è l'unico che consente di fare questa professione, che ti assicuro al di là di tutti i miraggi immaginari, è una professione che equivale un po' a fare il contenitore, il bidone della sofferenza di tutti, e dunque per farlo occorre non avere di mira neanche il bene dell'altro, intanto perché io non so qual è, non so qual è il tuo bene, si tratta di recuperarlo nel corso di una cura, e nessun furor sanandi, ma dare al soggetto che arriva una possibilità nuova, la possibilità dell'incontro con qualche cosa che non ha mai incontrato, e che recupera nelle sue parole, nel suo dirsi. Attraverso un percorso proprio di incontro e di conoscenza reciproca, quindi per chiudere questa intervista, Michela, quando si incontra una persona laureata in psicologia, una psicoterapeuta come te, una psicoanalista, si ha magari sempre il timore, oddio adesso chissà cosa pensa di me, tenta di comprendere, di capire tutto di me, mi nascondo dietro magari anche un mio modo di essere diverso rispetto al reale, è sbagliato, è totalmente sbagliato questo atteggiamento, perché in realtà incontriamo un essere umano come noi, che anche lui è sempre in un percorso, e la reciprocità anzi probabilmente ci permetterà di migliorare tutti e due. Allora non parlerei di reciprocità nella cura, nel senso che le posizioni sono asimmetriche, ma non nell'ordine immaginario del oddio, vado dall'analista e mi sento sotto giudizio. Il giudizio è un significante che dentro una stanza di analisi non entra mai, intanto perché noi siamo lì per ascoltare proprio il peggio dell'altro, un peggio a cui non solo siamo abituati, ma che sappiamo essere il centro della cura. Se uno non porta il proprio peggio, lo lascia fuori dalla stanza, non sta facendo un'analisi. Però d'altra parte questa è la cosa più difficile, perché tutti noi siamo abituati a voler dare l'immagine migliore di noi all'altro, dunque spogliarsi di questa identificazione ideale è la cosa più complessa. E' più facile se l'analista si posiziona il più possibile in maniera neutrale, cioè non è né l'amico né il padrone di un sapere, ma è più a fine una funzione. E' lì perché il soggetto possa essere libero di dirsi, la direi più così. Perfetto, una funzione professionale, grande professionista Michele Occhielli, grazie. A te Antonio, grazie, grazie a Fisioradi, a Grazie Rossini TV e a tutti gli spettatori. Grazie davvero, grazie per averci seguito. Siamo sicuri che siete rimasti tutti lì perché è stato davvero molto molto interessante questo momento d'incontro con la dottoressa Michele Occhielli. Appuntamento lunedì prossimo, buona settimana a tutti. Grazie 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 a tutti